ciao a tutti i ragazzi e benvenuti siamo qui oggi 22 ottobre con house of hashish ultimo capitolo di antologia orrore specifichiamo che in tanti non afferrano ovvero per ultimo intendiamo l'ultimo uscito ora anche se ne hanno annunciato gli altri eventi questo è l'ultimo uscito eh sì allora siamo di nuovo qui con il nostro caro curatore che vabbè l'abbiamo visto noi di recente perché stiamo portando abbiamo portato già meno meta nel little hop in live su twitch oggi è il day one e a proposito dopo questo gameplay correrete subito su twitch perché alle nove e mezza continuiamo house of hashish in live abbiamo preso la versione ps4 per un motivo di parità nel senso abbiamo preso tutti i ps4 abbiamo preso per estetica anche quel questo ps4 però lo stiamo giocando in versione ps5 allora ok siamo sempre in due che significa giocatore 1 impegnativo ah si può cambiare difficoltà bello mi piace questa cosa della difficoltà comunque sì sì no perché l'abbiamo anche detto sul fatto che volevamo un po più di difficoltà magari perché meno medan è veramente troppo facile e palloso qui già il fatto che impegnativo già la difficoltà resce le la fai tu io faccio eric faccio nick e non c'è di due fattigli soldati vabbè tu fai la protagonista alla fine no io faccio salim tu fai allora resce le salim dai perché tu ti rende sono i due che hanno anche molti più parti e che salim ricordiamo il soldato iracheno gli altri dovrebbero essere tutti i soldati della parte di rachel inizio subito col mio turno poiché hanno seminato vento raccoglieranno tempesta ogni scelta a una conseguenza alcune decisioni salvano la vita altre conducono alla morte ricordiamo che noi abbiamo giocati tutti incluso anche until dawn e vabbè non abbiamo aspettative altissime però non si può mai sapere questa ambientazione desertosa non è che ci ispira più di tanto magari poi che scintilla nel tempio sotterraneo che può dire ma questo è morto già si si vedeva dall'espressione bella questa scena no vabbè accadde 2231 ac accadde ciò avanti cristo vai ma noi siamo questo ah no siamo quello con l'elmo non voglio morire silenzio il tuo parlare è inutile qui il nostro re pretende un tributo di sangue il tuo sacco non è un re tipo un boia una specie di questo non sarà un servizio è un generale il re richiede la vostra presenza gli dei ti arridono per ora riportalo in cella me ne occupo dopo beh mi parte bene comunque fortuna no non ce n'è per questi cani cuteo significa faccia di cudo cani è un complimento poi comunque cuteo faccia di cudo non si rispettiva la lingua il re la sua follia minaccia di ingogliare anche noi questo tempio è maledetto morirei in questa dimora nefasta piuttosto che cedere a morbo e carestia agli ordini capitano naram sinze questo è il re intorno questa sala non basta a ripagare i miei errori e gli dei non si beano della sua gloria arriva negutei generale il dio luna ha inviato un esercito contro di noi raduno immediatamente le truppe bene dai sotterranei abbiamo centinaia di prigionieri mio re per i sacrifici serve tempo il tempo ormai ci sfugge tra le dita fa nulla nutriremo le sabbie con il sangue di quei soldati il sacrificio verrà compiuto cominciando con lei dai un piacere dimmi generale per caso ti ricorda qualcuno? mio re non cogli una lieve somiglianza con tua figlia quanti anni avrebbe adesso? diciotto diciotto questo morbo è stato una sciagura ma perchè la figlia? uccidila vabbè non diciamo niente secondo me vabbè agli ordini io rispetto il mio dovese se non manco la riconosco la mia figlia vorrei dire che non è mia figlia oh come ti permetti oh mazzo posso migliorare un sacco i quick die sono più veloci poi c'è anche la vibrazione del dual sense che ti da quella sprint in più e cambiano pure i tasti ah oh lancia lo so ah non mi da il cerchietto no quando il mirino diventa rosso ah visto mi sento un po' stupido il costume di questa donna perchè è chiaramente un personaggio che al suo tempo sarebbe stata con tutto diciamo il petto di fuori invece qui per motivi un po' di censura e altro le hanno messo una specie di sacco che dietro è tutta aperta e invece davanti tutta coperta è un costume che non ha molto senso ah morì ha perso la capa come si vuol dire l'ho lanciato al nostro re soddisfatto? no però hanno eliminato quel cerchietto bianco che dovevi c'entrare dentro eh si perciò c'è anche il genere è riportato anche come genere spara tutto il problema è che i soldati hanno i fucili quindi tu devi puntare e fare fuoco e questo si sta ribellando oh ma ce l'ha fatta? no ma noi questo noi dobbiamo fare contro questo infame questo è quello che abbiamo imprigionato noi è quel cuteo ahah si è bene io ti avrei un po' paura per questo le la stare con quella stata con il piatto in destino in mano mettiti i cari in destino anche se ovviamente basta questa introduzione per vedere che non è molto horror cioè tipo questo sembra quasi un film fantasy se non è realistico appunto si face un film fantasy però non è che di paura si vabbè quel fatto delle teste però non è che è horror vabbè non è horror è una cosa che mostrano appunto in tanti film e giochi che sono cioè se ti bastassi scritto non è che è horror dice il pasuzzo quindi ho già il primo lamento graficamente invece stanno lì però con qualche miglioria si si dobbiamo vedere un po' l'esplorazione perchè ancora non ci stanno facendo camminare oh non ci sei il re nooo ha durato troppo poco ma sto re non è una buona roba vabbè scuola è morto pure l'ha seduto quelli stavano fatto un cavolo fino alla fine ma che sono i pasuzzi che stanno facendo tutto chiudi chiudi vuol' uccidere questo gluteo perchè questo non ha capito che ci sono i mostri dietro ma apri questo scemo aiutami il gluteo oh bene aiutami il gluteo questo è l'esercito delle facce di gura che ha fatto accadeci per scatenare tale potere siamo maledetti il nostro re ci ha condannati credevamo voi i demoni ci sbagliavamo il re ha vuotato il tempio a nippon e ha eretto questo per chiedere perdono ma gli dei non ascoltano e in questo momento anche lui tace quindi questo ha creato sto tempio per provare a fare una torta di offerta a sti demoni questi si sono sbattuti il nostro rapporto con Kulum sta peggiorando è il vostro tempio cosa facciamo? c'è una via d'uscita nelle catacombe perchè dovrei fidarmi di te? non hai scelta accadico aspetta ha già uno sfondo della porta quelli son forti qui ne siamo degli accadici ricordiamo che il popolo degli accadi sono anche quelli che hanno inventato l'HD ci sta eh ok vieni per i costruttori alla fine vieni vieni ci fa fare la cosa della cane vabbè questo l'hanno mantenuto ed è sempre semplice non è più difficile c'è sempre X e triangolo però ancora si aumenta un po' ah? un sorcio si muore ah in pratica questi scarabèi ho il trauma vabbè anche io per il film e la mummia no troppo brutto che in pratica c'era quella scena dove quello scarabèo entrava proprio dentro il corpo no quello mi ha traumatizzato proprio la vita oh funziona molto meglio l'esplorazione ah si è molto più controlli tua telecamera i controlli si è molto più libera e poi vabbè camminano molto più velocemente mamma mia gli altri due erano molto inceppati soprattutto meno medan poi è entrato qualcosa c'è uno che esce da qualcosa la prima premonizione e la cosa bella è che cammina più velocemente di come camminano i personaggi di Little Hope in corso eh siamo maledetti con le nostre mani stupidi che dice usa R per informazioni nascoste vabbè per scorrere sopra sotto i laterali cioè che informazioni segretate lo dice andiamo di qua vai è la strada giusta va prima tu qui è sicuro prima tu va tipatico proprio e proprio ci faccio dare pure ordini scusa non diciamo in generale cos'è l'oggetto che hai al collo nulla che riguardi un accadico proprio questo tiene tante cose al collo vediamoci la vicenda il mio nemico è il mio amico bravo Kurum ah andiamo su è che non possiamo fare quella sfarda vabbè giusto per il saluto forza tutta ogni angolo Kurum quanti ingressi ha questa tomba guarda a fine andrò sempre giù ma lui vabbè quella ha fatto tutto la la sparata di potenza qui è? è lui via 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 un po' di sprint la porta noo il mostrone il pazuzzo vediamoci da dove siamo venuti lo so accadico non c'è scappo è l'unica speranza no se fuggiamo entrambi moriremo in due pronto a combattere quindi? vabbè combatto perché sono un accadico di valore si full hd oh oddio pazuzzu guarda questa la stessa visuale dei mostrini di andyldor eh un po' si solo quella mi sembrava che forse era rossa siamo morti nooo è morto penso oh nooo annaccia lascia volando la spada hai visto? oddio si è visto sotto la gonna? nooo nooo di solito i weak dimer sono belli sono più veloci ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh oh che ultima vivo ha fatto finta eh ah fatto finta eh no 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 ma muore oggi si è ridotto eh chiudi copribli oh è stato in faccia non siamo soli Ah, ciao, curatore. Ben trovato. Ha fatto già una brutta morte, quei due, eh? Ah, hanno messo anche il rimbombo della voce. O forse lui ha tolto qualche immobile, quindi rimbomba un po' di più. No, non ci mentire. Quei due comunque morivano sicuro, anche se non sbagliavo quel quick time, probabilmente a questi è di pochi passi. Sì. Ah, curatore, ci conosciamo già. Eh, però lui non collega i salvataggi degli altri giochi. Abbastanza. Alcune scelte potrebbero unirvi, e altre potrebbero dividere. Mi permetto di dare un breve consiglio. Cominciamo. Va bene. Va bene. Ok, e adesso ci fermiamo qui con questa immagine. Ci vediamo questa sera alle 21.30 su Twitch. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.